Per noi vale soprattutto quello di riuscire a garantire anche uno sviluppo, non solo il mantenere ma anche sviluppare, quindi un fortissimo investimento nella formazione, un investimento nei nostri giovani, nelle nostre famiglie, in modo tale che la cultura ladina rimanga forte anche in futuro. Abbiamo affrontato le sfide dell'ultimo periodo, abbiamo potuto progettare anche altre iniziative, siamo qui per affrontare assieme alle nostre istituzioni quello che il tempo ci chiede.